ciao a tutti ragazzi bentornati su gamebusters allora sono andato a parlare con lo sceriffo qui a valentine che ci ha proposto praticamente di catturare questo simpatico personaggio e quindi vi volevo far vedere la taglia e lo andiamo a cercare vicino ad una gola vediamo se la mappa ce lo mostra dovrebbe mostrarcelo però eccolo qua posizione ricercato ok lo sceriffo ci ha chiesto di prenderlo vivo per vederlo marcire prima di impiccarlo andiamola a pigliare intanto ho dovuto strigliare alla grande dino perché mi era uscito l'indicatore che dino era sporco e quindi abbiamo dato una bella strigliata l'abbiamo nutrito e quindi adesso è pronto per cavalcare andiamo dino ciao ciao Sì tagliamo di qua Sì Per lustrar l'aria per cercare... per trovare il ricercato Io ne c'è nuoto Per a lui? C'è ragione però Queste ciazze rosse che sono Passare là sopra Come possa andarci senza passare per il fiume? Vediamo se possiamo passare di qua Che Dino non l'ha apprezzato molto La corrente era molto forte Qua no Allora dobbiamo per forza passare il fiume Sì Sarà là dentro secondo me Dino dobbiamo passare il fiume di nuovo Abbiamo passare il pulp Perfetto Dai che ti sei fatto anche un bel bagnetto dai Veniamo a vedere là sopra Era lui Anzitutto prendiamoci l'arma Non credo che possiamo prenderlo con l'azzo E lui Per una donna bambina, io sarei felice. Io sono un giocatore, sai? Un uomo medico. La medicina migliore della stessa. Il gioco è finito, mister. Poi mettere le mani, io prendo te in. Mi prendo? Che cosa? Apparante, quella cosa che stai spettando, è giocatore. C'è una pressione. Non lo so, non lo so, non lo so. Come un partner, è un giocatore. Io sono un giocatore. non ti buttare non cadere cazzo cazzo lo sapevo diamolo su dai cazzo dai ok porca miseria i really do not like you i don't know they're going to eat it i got a cross swim to the edge ah eccolo la eccolo la come facciamo eh vabbè vabbè dobbiamo essere molto più veloci dobbiamo raccogliere con l'azzo immagino no no ok diamolo su Allora, tieni premuto L2 per continuare a tenere ricercato Tieni premuto L2 mentre sei fermo nel cavallo Ok, quindi ci dobbiamo avvicinare così Vediamolo e vaffanculo, mi ha fatto perdere un sacco di tempo Ok Eh, è morto, no? Ma prima lo sfuggiamo, ovviamente Proviamo il ricercato e ce ne andiamo Carichiamolo su Dino Perfetto Allora, vediamo come possiamo andarcene da qua Allora, guardare acque profonde con un passeggero legato in groppa lo farà cadere Probabilmente a negare Ok, quindi dobbiamo scendere Allora, conduciamolo a questo punto Andiamo Dino, eh dai Oh, via Yep, yep, dai di no Don't Dai di No Ok 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 Oh, signorio, credo che dovrei essere soffermi da l'exposizione. Siamo che continuo a cercare. Signorio, devo riconoscere, la mia temperatura è subnormal. Ho medicina in mio pochino, potete passare a me, per favore. Ok siamo arrivati all'ufficio dello sceriffo Solleviamo Benedict Dai Benedetto dai Qua ci danno un po' di soldi Passiamo di qua tra i barili Sceriffo Guarda un po' chi c'ho Hai visto? Come stava andando via? Nella cella dobbiamo mettere noi Vabbè Non c'è un po' di soldi Non ho mai fatto Non c'è un po' di soldi C'è un po' di soldi C'è un po' di soldi Buono 50 dollari Ottimo Ok miglioriamo il nostro onore Vediamo missione completata Iperisci che Benedict Cada nel dirupo Ok ci siamo riusciti Rega a Albright Entro un minuto e 15 secondi E non ci siamo riusciti Riporta Albright Lo sceriffo Entro un minuto e 30 secondi Sempre costanza Ok anche questa è fatta Ok ragazzi Allora questo video può finire qui Mi raccomando Cliccate mi piace Se lo ritenete opportuno Chiaramente Iscrivetevi al canale Seguiteci sui nostri canali social Noi ci vediamo con il prossimo appuntamento Intanto siamo stati anche dal barbiere Non so se si vede Ci vediamo con il prossimo appuntamento Qui su Gamebusters Ciao a tutti ragazzi